di questo ciclo di webinar, lo ricordiamo per chi avesse perso le puntate precedenti, se accedete alle pagine di riferimento dei due webinar precedenti potrete trovare sia la registrazione che le slide dell'evento. Buongiorno a tutti, oggi parleremo di fondi indiretti, dei fondi strutturali di investimento europei che dovrebbero concludere il cerchio di questa prima fase di informazione su finanziamenti europei. Lascio la parola a Luigi Parano, il mio collega, che vi illustrerà velocemente quali sono questi fondi strutturali e come si utilizzano. Buongiorno a tutti. Grazie Claudia, buongiorno a tutti. Oggi faremo un po' il punto di come funzionano i finanziamenti indiretti dell'Unione Europea, i cosiddetti fondi strutturali e di investimento. Nel webinar precedente abbiamo analizzato quali sono le fonti di informazione europee, i principali finanziamenti diretti dell'Unione, oggi tratteremo appunto i finanziamenti indiretti. Le caratteristiche dei programmi di gestione diretta sono finanziari dalla Commissione europea ma sono gestiti dalle autorità nazionali e locali. La Commissione negozia e approva i programmi proposti dai singoli Stati membri, essenti alle risorse finanziarie. I Stati membri e le regioni gestiscono i programmi, li attuano attraverso la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti. Il rapporto con il beneficiario finale non è diretto ma è mediato dalle autorità nazionali, regionali e locali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse comunitarie. Questa è la logica dei programmi operativi, siano essi nazionali che regionali. La Commissione è coinvolta nella fase di monitoraggio e si impegna nel pagare le spese di approvazione ed effettuare le verifiche attraverso un sistema di controllo. I fondi strutturali di investimento europei sono finanziamenti indiretti. Operano insieme per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, la cosiddetta politica di coesione o politica regionale, e operano insieme per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, per generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Se state capire l'importanza dei fondi strutturali di investimento, circa l'80% dei finanziamenti dell'UE sono erogati attraverso i 5 fondi SIE che sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di coesione. I primi due rappresentano i fondi strutturali in senso stretto, integrati dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il FES, il Fondo Europeo per le Farie Marittime e la Pesca. Tutti insieme questi 5 fondi costituiscono nel nuovo ciclo di programmazione i fondi strutturali di investimento europei. Le modalità di intervento dei fondi intervengono attraverso dei programmi pluriannali, a completamento delle azioni nazionali, regionali e locali per realizzare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, ed in coerenza con le emissioni specifiche di ciascun fondo. Come vedremo c'è un regolamento generale sui 5 fondi, poi ogni fondo ha il proprio regolamento specifico in relazione al proprio ambito di intervento. La sussiderità è un principio importante perché l'Unione non finanzia attività, interventi, progetti e programmi in maniera autonoma, interviene solo se è nella misura in cui gli obiettivi dell'azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, quindi è una addizionalità di finanziamento che si aggiunge a risorse nazionali, non è assolutamente sostitutiva. Il ruolo principale dei fondi SIE sostengono la politica di coesione dell'Unione. L'obiettivo principale della politica di coesione o politica regionale è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali fra le varie regioni europee. Per darvi un po' un'idea di quanto pesano le risorse per la politica di coesione sul bilancio, rappresentano circa un terzo del bilancio complessivo dell'Unione. Sono risorse seconde soltanto alla politica agricola comune che ammonta a 408 miliardi di Euro. La politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra le imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione europea. In questa slide vedete un po' il percorso intrapeso dalle politiche di coesione. Vedete già nel 1957, 60 anni fa, oggi su quest'anno sono 60 anni di esistenza dell'Unione europea, già nel Trattato di Roma venivano evidenziate le differenze regionali tra gli Stati membri. nel 1958 viene istituito il Fondo sociale europeo, nel 1975 la creazione del Fondo europeo di sviluppo regionale. E via via, a seguire le altre tappe che avrete modo di vedere su questa slide, fino a giungere all'attuale ciclo di programmazione in cui vengono definiti 11 obiettivi tematici, come avremo modo di vedere, viene lanciata la strategia Europa 2020, con due obiettivi che tra poco andremo a vedere. A sinistra vediamo il bilancio complessivo dedicato alla politica di coesione del periodo 2014-2020, sono circa 352 miliardi di Euro, la suddivisione in base alle caratteristiche regionali, come vedete la parte della Leone la fanno le regioni in ritardo di sviluppo. Poi c'è il Fondo di coesione che come vedremo non interessa l'Italia, perché è un fondo dedicato a paesi particolarmente poveri, oltre a sostenere le politiche di coesione, l'altro grosso pilastro sul quale si basa la programmazione 2014-2020 ovviamente è la strategia di Europa 2020, molti di voi l'avranno sicuramente sentita. Si tratta della nuova agenda europea adottata il 3 marzo 2010, attraverso la quale la Commissione europea ha ridefinito le proprie politiche per il decennio 2010-2020. Contempa tre priorità fondamentali che si rafforzano a vicenda, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Quindi l'intelligente intesa come sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, crescita sostenibile, crescita sì, ma attenta alle variabili ambientali, le risorse ambientali appunto, inclusiva promozione di un'economia con alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica e territoriale. Intorno a queste tre priorità l'Europa si è fissata a cinque obiettivi. Sto ripetendo quello che per chi ha seguito il webinar sui fondi diretti magari sembrano cose scontate, però la strategia Europa 2020 è il pilastro fondamentale per la programmazione 2014-2020 sia per quanto riguarda i fondi diretti che indiretti, per cui un ripasto non fa mai male. Gli obiettivi sono il 75% delle persone di età fra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro, il 3% del pil dell'Unione deve essere investito in ricerca e sviluppo, i traguardi 20-20-20 in materia di clima e energia deve essere raggiunti. Se non lo sapesse i traguardi 20-20-20 sono una sorta di agenda ambientale che l'Unione si è data, finalizzata a raggiungere entro il 2020 una riduzione dell'emissione di gas a terra del 20%, alzare del 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico. Quindi il terzo di questi obiettivi fa riferimento agli aspetti ambientali. Poi abbiamo il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato. Infine ridurre di 20 milioni di unità il numero di persone a rischio di povertà ed emarginazione. Tutti questi obiettivi unitamente alle priorità di Europa 2020 dovranno essere costruiti intorno alle cosiddette iniziative FARO. Europa 2020 individua sette iniziative FARO al supporto dei tre obiettivi, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per quanto riguarda la crescita intelligente si punta al miglioramento delle condizioni generali e l'accesso dei finanziamenti per la crescita dell'occupazione. Miglioramento dell'efficienza dei sistemi di insegnamento agevolando l'ingresso dei giovani al mercato del lavoro. Accelerazione della diffusione di internet ad alta velocità è una delle carenze. L'alta velocità non è così diffusa in Italia ma in Europa, in Italia manche meno. La crescita sostenibile fa riferimento sia ad aspetti ambientali, incrementare l'uso di energie rinnovabili, sia ad agevolare lo sviluppo di un'economia industriale solida e sostenibile. Quindi politica industriale nell'era della globalizzazione, si deve fare di riferimento a questa. Infine per crescita inclusiva si intende agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e infine garantire un'occasione sociale e territoriale, di fatto la lotta contro la povertà e l'inclusione sociale. Natura e destinazione delle risorse finanziarie. Vi siete mai chiesti da dove provengono le risorse essenziali dall'Unione? Allora, all'inizio di ogni nuovo ciclo di programmazione, tutti gli Stati membri decidono all'unale mità il tipo e l'importo massimo delle risorse proprie che l'Unione può riscuotere nel corso di un anno, nonché il relativo metodo di calcolo e la cosiddetta decisione sulle risorse proprie. Tutti gli Stati decidono di assicurare al bilancio comunitario un certo livello di entrate e trasformare le risorse proprie in risorse proprie comuni dell'Unione. Le tipologie di risorse che ogni Stato membro stanzia sul bilancio comunitario è formato da reddito nazionale lordo, ogni Stato membro strastrisce al bilancio una certa percentuale della propria ricchezza. Contributi basati sull'IVA, si tratta di una liquida generalmente è intorno al 0,3%. Dazi doganali, provenienti dall'importazione di paesi extracomunitari da prelievi sullo zucchero, una quota di questi prelievi viene trattenuta dagli Stati a titolo di spese di distruzione. Altre fonti sono imposte e trattenute sulle retribuzioni del personale dell'Unione Europea, interessi bancari, contributi di paesi ex europei da quegli programmi, interessi di mora e ammende. Queste sono le varie fuoci che contribuiscono per ogni Stato membro ad alimentare il bilancio comunitario. Una curiosità, non so quanti di voi lo sanno, l'Italia è un paese che riceve meno di quanto dà all'Unione. Questa è una scheda relativa al saldo netto italiano per il 2015, sulla destra vedete la tipologia di contributi che l'Italia versa al bilancio comunitario, le voci sono quelle che vi ho illustrato poc'anzi, l'unica che non è citata e che trovate qui e che forse merita un approfondimento è il rimborso britannico, come vedete è una quota abbastanza significativa che è quasi equiparabile alle risorse basate sull'IVA. Cos'è il rimborso britannico? È il rimborso che gli Stati membri che ricevono più risorse a sostegno della politica agricola comune versano all'Unione come compensazione del minore introito da parte dell'Inghilterra. L'Inghilterra è o era, in questi tempi, di fatto ora è lo Stato che riceve meno risorse per l'agricoltura, per cui nel definire gli accordi sul bilancio è stato stabilito che i paesi che tradizionalmente ricevono più aiuti in agricoltura, che sono Italia, Francia e Spagna, versano una quota per compensare il mancato ricevimento di fondi da parte dell'Unione, della Gran Bretagna. A destra vedete invece il quadro complessivo per il 2015 rispetto al bilancio totale dell'Unione quanto spende l'Italia, spende circa 12 miliardi di Euro. Le caratteristiche del bilancio dell'Unione? Il bilancio dell'Unione è abbastanza diverso dai bilanci nazionali, è fatto sì da entrate e uscite, ma le entrate sono certe, non è mai in disavanzo, non accumula debili, spende soltanto quello che riceve. All'inizio di ogni ciclo di programmazione viene stabilito un bilancio, lo vedremo più avanti, e quindi intorno a quel bilancio vengono costruite le politiche e gli interventi, potendo contare su risorse certe. Quindi finanziazioni che il rischio dei membri possono finanziare più efficacemente insieme, in settori come energia, trasporti, tecnologie, dell'informazione, cambiamenti climatici e ricerca. Finanze e progetti in investimento che per molti paesi, vista la situazione economica non vedrebbero mai la luce e costruiscono di fatto l'unica fonte per gli investimenti di infrastrutture. Quindi questa è la definizione del bilancio e degli impegni per ogni settennato del ciclo di programmazione, è definito come quadro finanziario pluriannale. Il quadro finanziario pluriannale traduce in termini finanziari le priorità dell'Unione per una durata massima di 7 anni quanto un ciclo di programmazione, fissando gli importi massimi annuali della spesa dell'Unione, sia in termini complessivi che in riferimento alle principali categorie pubbliche di spesa. Sua destra il bilancio complessivo dell'Unione per il ciclo di programmazione ammonta a 1.082 miliardi di Euro, come vedete le politiche di coesione inciscono per circa un terzo, il resto sono le altre politiche dell'Unione, compresa la PAC, quindi ogni anno poi la Commissione effettua un adeguamento tecnico in base alla variazione sul periodo del dedito nazionale di lordo, comunque sono aggiustamenti che vanno a limare i contributi di anni, comunque l'impalcatura e la struttura dei contributi è quella alla fine. Qui vedete l'ammontare complessivo delle risorse italiane dedicate alla politica di coesione, sono 121 mila milioni e 892 Euro, suddivisi per fondi SIE e altri fondi, i fondi strutturali di investimento come vedete in linea con il principio della sussidiarità che abbiamo poc'anzi citato, contano su una parte di contributo dell'Unione di 42.672 milioni di Euro e una parte di cofinanziamento nazionale, diviso per categorie di regione che vedremo più avanti quali sono. Il cofinanziamento nazionale è 30.956 milioni di Euro, gli altri finanziamenti alla politica di coesione vengono da fondi nazionali, dalla cooperazione territoriale europea che non sarà oggetto di trasazione di questa giornata perché meriterebbe una giornata a sé, e il FEAD che è il Fondo Europeo per gli indigenti, quindi il quadro complessivo del finanziamento delle politiche di coesione è questo in Italia. In questa tabella vedete il dettaglio, come vedete a tutte le risorse stanziate dall'Unione Europea, vedete il FEAD, l'FSE, il FEAD, il FEAMP, corrisponde una quota di cofinanziamento nazionale, per tutte le altre voci vale il finanziamento nazionale. Alla fine cerchete il rosso, vedete il bilancio complessivo delle politiche di coesione che è coerente con la slide che vi ho fatto vedere prima. Il percorso di costruzione e di pianificazione, le modalità di attuazione della programmazione 2014-2020. Ora, in questa slide ho cercato di illustrarvi i documenti e i passi principali che hanno portato ai programmi operativi nazionali e regionali, così come noi li conosciamo, volendo dare una data certa, anche se il percorso è iniziato prima, basta sapere che già da oggi sono in corso le trattative e gli incontri per il prossimo ciclo di programmazione 2021-2028. Possiamo individuare nel 2009, come tappa fondamentale, il rapporto commissionato dall'allora commissaria della politica regionale Danuta Hubner al nostro Fabrizio Barca, ex ministro della Costituzione Economica, uno dei massimi esperti di politica di coesione in Italia. Il rapporto Barca illustra una relazione indipendente sull'efficacia della politica di coesione e proposte su come riformarla per il periodo 2014-2020. In questo documento sono contenuti molti documenti che hanno innovato e troviamo presenti che sono stati codificati sia nei regolamenti comunitari sia nell'accordo di partenariato. Ci sono vari elementi molto interessanti del rapporto Barca, tipo una natura place-based della politica territoriale, cioè contare sui territori sia in termini di potenzialità del territorio, sia in termini di collegamenti territoriali, sia fisici che politici che economici, economici perché politici. Un nuovo contratto mirato ai risultati e da qui abbiamo alla fine regionale, anche il contratto di partenariato che è il risultato di queste ipotesi fatte dalla sabbia in barca. La mobilitazione degli attori locali, anche queste sono tematiche molto riprese nell'eguolamento finale. Viene poi affiancato da fine 1999-2010, viene lanciata la strategia Europa 2020 che definisce per grandi linee il percorso da seguire nella programmazione del decennio successivo al 2010. Viene definito il quadro finanziario pluriennale, che abbiamo analizzato poco anzi, cioè le risorse che vanno ad alimentare il ciclo di programmazione. Vengono scritti regolamenti sui fondi strutturali europei e di investimenti europei. La prima versione risale al 2011, quella definitiva al 2013, contenenti anche il quadro strategico comune che vedremo avanti, dette un po' le linee di intervento che gli Stati devono, l'Europa comunque deve seguire, gli Stati devono attenersi nell'attuazione delle rispettive programmazioni nazionali. Poi c'è un documento importante, il Position Paper Italia. Io faccio un salto avanti perché nel riquadro a fianco, tratteggiato, vedete PNR e raccomandazioni 2012. Per chi non lo sapesse, conviene fare un richiamo sul PNR. I programmi nazionali di riforma sono predisposti ogni anno dal Governo e inviati alla Commissione entro il mese di aprile. Diciamo che sono dei documenti che consentono quegli aggiustamenti in itinere derivanti da condizioni che hanno modificato quelle che erano le condizioni che hanno portato a scrivere un'iniziativa, un progetto, un programma e contengono interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020. I contenuti indicano lo stato di riavanzamento delle riforme avviate in ogni singolo Paese, gli scolibbi macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che inciscono sulla competitività, le priorità del Paese in un determinato momento storico, in un certo anno, effetti delle riforme proposte, come le riforme in corso in quel Paese produrranno effetti o si aspiga o si prevede che produrranno effetti. Ecco, tutti questi documenti annualmente vengono trasmessi, questo documento viene trasmesso alla Commissione. La Commissione lo analizza in base a ciò che ciascun Paese illustra nei programmi nazionali di riforma, il prossimo fra l'altro sarà licenziato a breve, il fatto è un allegato del documento di economia e finanza, del DEF, che viene licenziato nel mese di aprile. Sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali di riforma, la Commissione predisponde delle raccomandazioni specifiche per ogni Paese per i successivi mesi. Italia si attenta a questo tipo di percorso, ma lo sai che per fare questo tipo di attività devi fare quest'altra attività e consente di aggiustare la mira sugli obiettivi. Quindi dicevamo, il Possession Paper Italia è un documento attraverso il quale la Commissione ha fornito indicazioni al nostro Paese per la predisposizione dell'accordo di partenariato, sulla base delle rileverazioni della nostra situazione economica e sociale, quindi anche sulle indicazioni contenute del programma nazionale di riforma. Il Possession Paper Italia raccomandava quattro tipologie di attenzioni, fra virgolette, rivolte all'Italia. Un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese, uno stimolo a realizzare infrastrutture performanti per assicurare una gestione efficienza delle risorse naturali, la partecipazione al mercato del lavoro è più dinamico, l'organizzazione dei servizi per il lavoro, il sostegno alla qualità e l'efficienza della pubblica amministrazione. Queste indicazioni sono contenute nel Possession Paper, che sono indicazioni che sono state tenute ovviamente in debita considerazione, come era questo lo scopo di fatti, nella stesura dell'accordo di partenariato, che vedremo avanti, ormai penso sapere tutti di cosa si tratta. Anche l'accordo di partenariato è stato realizzato in progress tenendo conto dei programmi nazionali di riforma per l'anno 2013 e 2014, abbiamo detto che i PNR sono smessi ogni anno, c'è stato un negoziato tra Italia e Commissione Europea come ogni Stato, altro documento importante che ha contribuito alla stesura dell'accordo di partenariato, anche questo lo vedremo più avanti, è un documento del Ministero per la politica territoriale in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Lavoro, che descrive documenti e metodi per un efficace uso dei fondi comunitari 2014-2020, vengono introdotte delle importanti innovazioni, si tratta di 7 innovazioni di metodo che andremo a prima modo di analizzarle più avanti, quindi una volta scritto l'accordo di partenariato, i programmi operativi sono un punto di arrivo, sia regionali che nazionali, che analizzeremo più avanti, anche i programmi operativi nazionali e regionali sono oggetto di negoziato tra Italia e Commissione, altro documento che mi sono sentito di segnalare e che analizzeremo più avanti sono i piani di rafforzamento amministrativi, sono quei piani messi in atto dalle pubbliche amministrazioni che gestiscono i programmi, in rispondenza del position paper Italia, del quale che ne dicevo prima, in cui si raccomandava un intervento generalizzato a rendere maggiore efficienza la pubblica amministrazione. Quindi questa è l'impaccatura generale, quindi quando parliamo dei programmi operativi dobbiamo tener conto che il processo è stato abbastanza lungo, è negoziato, è travagliato per certi aspetti, comunque molto ragionato. Il quadro del riferimento normativo è il seguente, c'è il regolamento principale è il 1303 del 2013 che rega disposizioni comuni su 5 fondi SIE e rappresenta un po' il cappello su come le programmazioni nazionali devono organizzare i propri programmi. A questo sono assiancati ovviamente i regolamenti specifici per il Fondo Sociale Europeo e per il FERS perché sono fondi che intervengono in specifiche attività e finanziano attività specifiche ognuno per le proprie caratteristiche, lo vediamo più avanti e via via tutti gli altri regolamenti. I 5 fondi SIE vi dicevo sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo che costituiscono i fondi strutturali in senso stretto, il primo promuove il classico fondo che promuove la realizzazione di infrastrutture, il secondo più finalizzato è il capitale umano e garantire l'inclusione sociale e anche il sviluppo di capacità amministrativa attraverso le attività formative e le caratteristiche tipiche del Fondo Sociale Europeo sono sempre quelle per cui non c'è niente di nuovo. Il Fondo di Cosione è un fondo del quale l'Italia non usufruisce perché è destinato a paesi che hanno un PIL inferiore al 90% della media dell'Unione, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per le fare i malissimi alla pesca. Tutti questi 5 fondi sono i fondi SIE, stiamo restando che i fondi strutturali ovviamente non sono sperimenti che sono sempre il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo del Gliumbo Regionale. La nuova programmazione vengono introdotte di due obiettivi, a differenza della precedente l'obiettivo cooperazione territoriale rimane, però a differenza dei due obiettivi convergenza, competitività e occupazione c'è un obiettivo unico, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, tutte le regioni e sono finanziate sia dal Fondo Sociale Europeo che dal Fondo Europeo del Gliumbo Regionale. Le categorie di regioni sono 3, abbiamo superato la fase del phasing out, dettato anche dall'ingresso dei nuovi paesi che hanno alzato o abbassato la media del PIL, quindi l'aspetto statistico in questo ciclo di programmazione sparisce, quindi abbiamo 3 tipologie di regioni, le meno sviluppate, con un PIL iprocapite inferiori, a 75% della media, regioni in transizione, tutte le regioni con PIL procapite comprese fra il 75% e il 90%, le regioni più sviluppate con un PIL maggiore al 90%. In questa nuova sezione la differenza tra regioni più o meno sviluppate non influiscono in mezzo alla liturgia di obiettivo, ma in termini di ripartizione delle risorse, quindi un paese più, per virgolette, è povero, più riceve, però l'obiettivo è unico per tutte le regioni, oltre appunto all'obiettivo cooperazione del Gliumbo Regionale Europea. Il quadro strategico comune è un allegato del Regolamento 1303-2013, il Regolamento generale, fornisce delle linee guida agli Stati membri e alle regioni al fine di trarre il massimo beneficio delle opportunità offerte dai fondi e dalle altre politiche e strumenti dell'Unione, negli rispettivi accordi di partenariato, ovviamente con particolare attenzione al raggiungimento della strategia Europa 2020. Sono pensati per rendere più semplice il coordinamento e la complementarietà degli interventi supportati dai fondi SIE, questa è una delle raccomandazioni ricorrenti che troveremo in tutti i documenti, la raccomandazione dell'UE è di mantenere il massimo coordinamento tra tutti i fondi. È vero che ogni fondo ha le sue peculiarità, però i fondi devono dialogare fra loro, devono operare insieme per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, ciascuno ha delle proprie linee, dei propri ambiti di intervento. Fornisce degli orientamenti strategici, come vi dicevo, per conseguire un approccio di sviluppo integrato in coordinamento con tutti gli altri strumenti dell'Unione, in linea con i obiettivi della strategia di zona, in linea con le iniziative FARO che abbiamo visto prima, intorno al quale vengono costruiti gli interventi. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento generale, il quadro strategico comune stabilisce meccanismi per garantire il contributo dei fondi alla strategia dell'Unione, di fatto strategia Europa 2020, disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi, disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e strumenti per il coordinamento dell'Unione, principi sia orizzontali che trasversali sull'attuazione dei fondi, le modalità per affrontare le principali sfide territoriali, pensiamo alle zone urbane, le zone costiere, le sfide demografiche, le specifiche esigenze di regioni situate in regioni geografici con particolari problemi, settori prioritari, di cooperazione, le strategie macro regionali di cooperazione tra regioni, contiene delle linee guida su come impostare, è un po' quello che prevedevano, per chi, ovviamente molti di voi lavorano su fondi strutturali, quello che prevedevano gli orientamenti strategici comunitari della precedente programmazione. L'accordo di partenariato, questa è la novità di questo ciclo di programmazione, l'avete sentito nominare sicuramente chi state lavorando o ci lavorerete, definisce gli impegni a livello di ciascuno Stato membro, i fabbisogni di sviluppo, gli obiettivi tematici della programmazione, i risultati attesi, le azioni generalizzate tramite l'impianto dei soldi. Di fatto l'accordo di partenariato definisce come lo Stato membro intende utilizzare i fondi. Vengono definiti gli impegni tra i partner a livello nazionale e regionale e la Commissione, le autorità che gestiranno i programmi, le regioni, i ministeri, tutti stati chiamati e hanno sottoscritto questo accordo di partenariato con la Commissione, è collegato agli obiettivi della strategia Europa 2020 ai programmi nazionali di riforma che abbiamo visto poco fa. Comprende obiettivi basati su indicatori concordati, investimenti strategici e una serie di condizionalità. Prevede l'impegno a riferire annualmente sui progressi conseguiti nelle relazioni annuali di attuazione che vengono trasmessi dalla Commissione. Prevede modalità per garantire l'allenamento con la strategia dell'Unione Europa 2020, di fatto l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, contenuto da tutti i fondi del quadro strategico Romone, un approccio integrato per rispondere a bisogni specifici, le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei programmi, cioè come lo Stato Membro si organizza per gestire efficacemente i programmi, le modalità per garantire l'attuazione dell'efficienza dei fondi del quadro. Sono esclusi dall'accordo di partenariato ai programmi di cooperazione territoriale europea, tuttavia nei regolamenti comunitari si trovano espliciti riferimenti alla necessità di raccordarsi il più possibile in un'ottica di coordinamento delle politiche anche con i programmi di cooperazione territoriale. L'accordo di partenariato in Italia è stato redatto sulla base di vari documenti, il principale è ovviamente il regolamento 1303, il quadro strategico comunitario che è detta appunto la linea guida. Position paper Italia dalla Commissione europea l'abbiamo visto poco fa, indicazioni chiare su quale azioni correttive e su quale secularità insistere nella stesura dell'accordo di partenariato, ma il documento molto importante è il documento per risposto dal Ministero per la questione territoriale in accordo con il Ministero del Lavoro e dell'Agricoltura, il documento di metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi dell'Unione. Questo documento introduce delle innovazioni che ritroviamo nell'accordo di partenariato, sono sette innovazioni di metodo appunto riferite a risultati attesi, gli obiettivi sono definiti sotto forma di risultati attesi sulla qualità della vita delle persone e delle opportunità per le imprese, cioè cosa si sospetta da questi interventi. Le azioni, i programmi operativi devono contenere azioni puntuali e non generiche, cioè chiaramente identificabili, tempi previsti e sorvegliati, i tempi di attuazione di queste azioni devono essere chiaramente identificati e percorribili. Apertura, trasparenza e apertura dell'informazione, dare conto, vedremo anche questo alla fine di questa presentazione, ai cittadini di come vengono spesi i soldi pubblici e comunitari, ma anche nazionali come abbiamo visto, mobilitazione del partenariato, convolgere i territori, il partenariato, gli attori locali nella fase decisiva di attuazione e di evoluzione delle politiche, valutazione dell'impatto, ci rendere chiaro il concetto di valutazione, come i programmi impattano sulla qualità delle persone e sulle opportunità delle imprese e poi un forte presidio nazionale. Le regole del gioco sono chiare e chiaramente identificabili e dettate dall'accordo di partenariato. Si agisce secondo quanto l'accordo di partenariato prevede. Il documento individua anche tre opzioni strategiche sulle quali investire nel ciclo di programmazione 2014-2020 che sono a mezzogiorno città e aree interne, anche queste le troviamo nell'accordo di partenariato. Infine il documento propone delle ipotesi di metodo per ciascuno degli 11 obiettivi tematici previsti dall'Unione Europea. L'Unione Europea, il regolamento generale, siccome è stato anche portato nell'accordo di partenariato, individua 11 obiettivi tematici. Questi sono gli obiettivi tematici che la programmazione 2014-2020 si è data. Allora, sulla sinistra vedete i tre ambiti relativi all'inclusione, sostenibilità e crescere intelligente che sono i tre obiettivi dell'azienda di Europa 2020. I primi tre sono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, migliorare l'accesso alle telecomunicazioni e l'impiego di qualità della qualità delle medesime, la promozione della competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore pesca e dell'agricoltura, sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione, quindi gli aspetti ambientali. I primi tre fanno riferimento alla crescita intelligente. Sulla colonna a destra vedete i vari fondi che vanno a finanziare gli obiettivi che stiamo facendo. Il quarto obiettivo è un'attenzione agli aspetti ambientali, il quinto promozione dell'adattamento al cambiamento climatico, preservare e tutelare l'ambiente, l'uso efficiente delle risorse e sistemi di trasporto sostenibili. Il concetto di sostenibilità viene affrontato attraverso lo sviluppo di questi quattro obiettivi. Gli ultimi obiettivi sono quelli che fanno riferimento all'occupazione, all'inclusione sociale, formazione durante tutto l'arco della vita e sul rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni. Questi sono gli obiettivi che troverete in tutti i documenti e i programmi operativi nazionali e regionali con spesi differenti a seconda delle peculiarità dei programmi, alcuni sono tipicamente da Fondo Sociale Europeo, mi riferisco agli 8, 9, 10 e anche l'11. Il FERS interviene in maniera trasversale un po' su tutti, però come vedremo l'Unione invita a concentrare gli interventi su pochi obiettivi che possono essere fondamentali per lo sviluppo di un determinato territorio. Le modalità di attuazione dei programmi. Come dicevo prima, concentrazione tematica. È inutile disperdere le risorse sugli 11 obiettivi tematici. L'Unione invita a tutti gli Stati di concentrare gli interventi riconduscibili agli 8 obiettivi tematici sulle priorità che contribuiscono in ciascuna realtà territoriale o nazionale a maggior contributo alla realizzazione della strategia Europa 2020, tenendo conto delle peculiarità territoriali, delle indicazioni delle quattro strategie o comune, dei contenuti dei programmi nazionali di riforma, delle raccomandazioni per ciascun paese. Abbiamo visto, ritornano sempre, il PNR. Ecco perché ci ho tenuto a spiegarvi il loro ruolo, che fungono un po' da programmi che allineano annualmente le politiche in relazione alle esigenze periodiche che non sono immutabili nell'arco di sette anni, che possono cambiare da paese a paese. I regolamenti specifici del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale indicano inoltre delle priorità specifiche, lo vedremo, sulle quali puntare e concentrare gli interventi per realizzare le finalità di ciascun fondo. La condizionalità ex ante, anche questa è abbastanza importante nel nostro ciclo di programmazione, è inutile programmare gli interventi se non si è in condizioni di attuarli, quindi la protezione dei programmi è subordinata al possesso di una serie di requisiti normativi, politici e istituzionali. Possono essere condizionalità di tipo tematico, specifiche priorità di investimento o temi dell'Unione, o generali, se pensi al principio dell'antidiscriminazione, parità di genere, appalti pubblici, sono principi che valgono al di là della tematicità dell'obiettivo, quindi uno Stato che non garantisce la parità di genere sicuramente non potrà aspirare a vedere approvato dei programmi operativi, per cui lo Stato membro deve valutare se la condizionalità ex ante applicabile ai rispettivi programmi sono state rispettate. In caso di inadempimento, al momento della presentazione di un programma deve redigere un programma che definisca le azioni da adottare per garantirne l'adempimento. Quando la Commissione adotta un programma può decidere addirittura di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore di una determinata priorità dei programmi in attesa che siano completate le azioni. L'onora della prova del possesso dei requisiti della condizionalità ex ante rispetta alla Commissione, non è lo Stato che dice ok ti assicuro, guarda che ho rispettato questo principio, è la Commissione che va a verificare se in effetti quello Stato è in condizioni di attuare una determinata politica. I principali contenuti dei programmi. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo alla realizzazione della strategia Europa 2020, definisce le priorità stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi e il corrispondente cofinanziamento nazionale, comprende le modalità per l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, non bisogna rendere la vita difficile ai beneficiari, quindi cercare di vedere incontro anche i temi di semplificazione della gestione dei fondi. È elaborato ciascun programma coerentemente con le specifiche di ciascun fondo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ovviamente non potrà andare a finanziare attività tipiche del Fondo Sociale Europeo e viceversa. Per ogni priorità sono stabiliti degli indicatori che sono molto importanti in quanto la valutazione assume una rilevanza non da poco in questo circuito di programmazione. Gli indicatori appunto per ciascuna priorità sono indicati indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata per monitorare l'andamento della spesa dei finanziamenti assegnati, indicatori di output relativi all'operazione finanziata e di risultato, cioè come questi risultati impattano sulla priorità interessata da quel programma. Norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono poi indicatori comuni e indicatori specifici, è ovvio che indicatori del FES, facendo il paragone allo spesa del Fondo Sociale, non possono essere uguali, uno finanzia la formazione, l'altro infrastruttura, l'indicatore di realizzazione vada a sé che siano differenti, quindi ogni regolamento specifico stabilisce gli indicatori specifici. Altra cosa importante è la riserva di efficacia, in questa programmazione il 6% dei fondi dei FIE costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione dei programmi, la Commissione verifica nel corso del 2019 effettua una verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi. Questa riserva di efficacia è erogata ai programmi che sono in linea con il calendario previstato e con i target intermedi che si pensava di conseguire e di fatto realizzati. Se i programmi non raggiungono questi target hanno una possibilità di riadeguamento, ma se a seguito di ulteriori verifiche e rapporti di esecuzione annuali, perché ogni stato manda dei rapporti annuali di esecuzione sull'attuazione dei programmi dell'Unione Europea, la Commissione, la Commissione verifica se quello stato è più o meno adempiente e si avvicina più o meno agli obiettivi prefissati. La Commissione può pubblicare in caso di mancato raggiungimento di target, può applicare addirittura delle rettifiche finanziarie ai programmi, può tagliare le risorse ai fondi. L'integrazione tra fondi è uno dei principi dichiarati da questo studio di programmazione. I fondi hanno, ripeto, le loro peculiarità, però possono essere integrati tra loro per l'ottenimento di obiettivi in maniera più efficace. A tale riguardo in materia di sviluppo territoriale sono stati individuati due strumenti specifici, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e gli investimenti territoriali integrati. Inoltre, come nella precedente programmazione, c'è una possibilità di flessibilità del 10% a risorse FSE e FES, faccio un esempio, c'è un programma operativo finanziato dal FES che prevede la realizzazione di una certa infrastruttura, però per gestire questa infrastruttura c'è bisogno di personale adeguatamente formato, la formazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, però in questi casi se la formazione è funzionale a quella opera infrastrutturale può essere contemplata. Questo è un margine di flessibilità del 10% a patto che siano attività coerenti con l'azione principale che viene finanziata. Lo sviluppo locale di partecipativo è una possibilità, non è un obbligo, l'accordo di partenariato lo prevede e demanda alle amministrazioni che gestiscono il programma di prevedere all'interno dei programmi operativi la possibilità di mobilitare il partenariato locale nella definizione di una certa politica su un certo territorio e l'approccio leader che molti di voi conosceranno su queste tematiche il leader ha fatto un po' da tipista e i buoni risultati hanno portato a codificare questa politica della precedente programmazione come approccio leader che invitavano appunto gli attori locali a parte promotore di interventi di sviluppo locale e in questa nuova programmazione è proprio codificato come una possibilità di attrazione di programmi operativi, cioè un'amministrazione regionale si rende conto che per risolvere dei problemi o comunque per elaborare dei piani di sviluppo locale in una certa area è opportuno che mobilitare gli attori locali, è una politica dal basso che mobilita gli attori locali, sono elaborati i gruppi di azione locale, li presentano alla regione, possono essere sia monofondo che multifondo in regione vengono, se prevista come modalità di sviluppo o di progetti di sviluppo locale vengono istituti appositi i comitati tecnici in grado di valutare le proposte fornite dai gruppi di azione locale, le caratteristiche sono la popolazione del territorio di una strategia non può essere inferiori a 10.000 abitanti né superiori a 150.000, quindi ripeto è un'opzione che se date un'occhiata nei programmi operativi che vi interessano vedrete le regioni che hanno più o meno previsto questa modalità di attrazione della rispettiva programmazione. L'altro strumento è l'investimento integrato territoriale, si differenzia dalla strategia di sviluppo locale per il fatto che non demanda agli attori locali, è una politica regionale, un'amministrazione regionale può essere prevista laddove può decidere che un intervento, un sviluppo turistico di una certa area può prevedere uno sviluppo attraverso l'utilizzo integrato di fondi, di FSE e di FES, allora può decidere che attraverso un investimento integrato si possa costruire una certa strategia, anche in questo caso lo strumento dell'ITI è previsto nei documenti di programmazione. Consentono di attuare programmi operativi in modo trasversale, di attingere a fondi FES e FSE provenienti da diversi assi prioritari da uno a due programmi, come vedete questa è la trasversalità propria della programmazione 2018-2020, può essere supportata dalla costruzione di un ITI dallo sviluppo locale partecipativo. Nulla pieta che agli interni uniti possano essere convolti anche gli attori locali per dire la propria opinione o il proprio contributo nella costruzione di una politica di sviluppo in territorio. Le strategie di sviluppo locale e gli investimenti integrati sono espressamente previsti in attuazione dell'agenda urbana e delle strategie per l'area interna, sono due strategie previste dalla nuova programmazione, attua l'agenda urbana europea che mira a coinvolgere le città nella concessione delle politiche regionali, sono previste dall'accordo di partenariato, l'accordo di partenariato individua tre ambiti a livello nazionale che fanno riferimento al ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani, le politiche e progettazione per l'inclusione sociale, potenziamento di segmenti locali pregiati e di filiere produttive locali. Questi tre elementi sono presenti nei programmi che prevedono l'associazione agli interventi d'ambito urbano. Poi c'è un quarto ambito che viene deciso sezionalmente da ciascuna regione in riferimento alle peculiarità regionali. Logicamente l'astrologia per le aree interne è una strategia prevista dall'accordo di partenariato che persegue l'obiettivo di rallentare il fenomeno di spavolamento delle aree interne. Il contributo delle fondicie, secondo l'approccio proprio di ciascun fondo, è sulla base dell'analisi dei fabbisogni specifici individuati da ciascun programma. Quindi vengono realizzati dai progetti di area da parte delle interventi che sono inseriti nelle programmazioni regionali. L'Italia, il panorama italiano della programmazione è costituito da 75 programmi. 60 sono programmi operativi regionali, i porro, e 15 nazionali. 60 regionali sono i 21 programmi di sviluppo rurale del PESR, 39 programmi operativi regionali, 36 sono a monofondo e 3 a plurifondo, perché in questo ciclo di programmazione c'è la possibilità di predisporre dei piani operativi plurifondo, un po' come qualche programmazione fa. Questa scelta è stata fatta da Calabria, Puglia e Molite, che hanno dei programmi FSE e FERS con Gini. Gli altri hanno un programma per il Fondo Sociale Europeo e l'altro per il Fondo Sociale Europeo e l'altro per il Fondo Sociale Europeo. E quindi c'è un programma operativi nazionali, che sono il FESR finanzia, il PON cultura e sviluppo, l'autorità di gestione e il ministero dei beni culturali, il PON imprese e competitività e imprese PMI, il ministero del gruppo economico, POM infrastrutture e reti, il ministero del MIT, il ministero dei trasporti, finanziati da FSE e FESR, che sono capacità istituzionale dell'Agenzia di Acquazione Territoriale, analogamente alla città metropolitana e l'Agenzia di Acquazione Territoriale, ricerca e innovazione, scuole e competenze per l'ambiente di apprendimento, il MIUR, legalità e il ministero dell'interno, sistemi obbligative per l'occupazione, in cui sono iniziative giovani, vado un po' di petta perché vedo che il tempo sta stringendo, l'iniziativa occupazione giovani e il ministero del lavoro, il FESR finanzia il PSR rurale e il PSR giudice rurale, e il FEAM per quanto riguarda gli affari marittimi e la pesca. Insomma, il quadro è questo, ogni programma interviene nei rispettivi ambiti di intervento e a completamento delle programmazioni regionali. Vediamo che alcuni programmi interessano tutte le categorie di regioni, altri le regioni di transizione e quelle meno sviluppate, e gli altri esclusivamente le regioni meno sviluppate, che sono infrastrutture trasporti, cultura e sviluppo e legalità. La gestione dei programmi. I piani di rafforzamento amministrativo, l'avevo anticipato prima, era una delle lacune che si segnalava l'Unione Europea attraverso il position pay per Italia, raccomandava appunto di rafforzare le capacità gestionali e amministrative nella pubblica amministrazione e nella gestione dei programmi. Quindi le amministrazioni che gestiscono i programmi operativi hanno redatto dei programmi con i quali indicano le misure di adeguamento sia in relazione alle professionalità presenti all'interno delle rispettive strutture, sia l'organizzazione degli uffici, sia l'organizzamento tecnico e regolatorio che ci sono dati per la gestione ottimale dei programmi. Quindi danno garanzia alla Commissione sulla capacità reale di sapere e poter gestire i programmi. La gestione finanziaria dei programmi operativi. Gli organismi sono l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit. L'opera di gestione è nominata dall'amministrazione titolare del programma sulla base del parere dell'autorità di audit alla primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal programma. Un po' la responsabile del programma mette in opera tutte le misure necessarie al fine di garantire la corretta attuazione dei programmi. E' effetto controlli di primo livello in loco e amministrativi. Al fine di verificare che le spese richiarate siano reali, i prodotti siano conformi alla richiesta di riapprovazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e via dicendo. Anche in materia di controlli sarebbe opportuno un webinar ad hoc perché sono tanti gli argomenti da trattare quando parliamo di controlli. L'autorità di certificazione è l'autorità che ha la responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire dai sistemi contabili affidabili, essere corredate da documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza. La dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata da dichiarazioni e da riepilogo annuale dell'autorità di gestione dal parere e dal rapporto dei controlli dell'autorità di audit che vedremo più avanti. L'autorità di audit ha il compito di vigilare sull'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. Tutto il sistema dei controlli è verificato dall'autorità di audit, assicura che ogni amministrazione sia dotata di un sistema di controlli idoneo, redigio una relazione corredata da relativo parere circa la loro conformità ai fini dell'adeguidezza degli standard per l'autorità di gestione richieste, individuata in modo da assicurare la netta separazione ovviamente tra le autorità di gestione e di certificazione, e effetto degli audit di sistema e sulle operazioni. A seguito dei controlli possono seguire sia dei richiami fino alla riedeterminazione della revoca parziale o totale del finanziamento. Quindi queste sono le tre autorità che gestiscono i programmi operativi. Possono essere individuati degli organismi intermedi in relazione alla complessità del programma o alla specificità degli obiettivi, può essere prevista l'istituzione di uno o più organismi intermedi a cui compete la responsabilità di gestione di una parte del programma. Le amministrazioni possono disegnare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. I compiti, le funzioni e le responsabilità dell'organismo intermedi, nonché i loro rapporti con l'autorità di gestione e con l'autorità di certificazione, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione. La D-Audit valuta anche l'adeguatezza di eventuali ordini intermedi. Questo è il sistema generale dei controlli, il primo livello e il secondo livello, l'abbiamo già citato, poi c'è l'Audit della Commissione che può svolgere eventuali controlli di secondo livello. La Corte delle Conti Europea può controllare il corretto utilizzo dei fondi fino a segnalare casi sospetti di frode. L'Olaf, ufficio rabele dell'autorità antifraude, indaga su casi di frode concrete che vengono purtroppo verifichendo abbastanza sospesso. La garanzia del corretto utilizzo dei fondi. Questi sono i ministeri che presidiano, per la parte del Presidio Nazionale di Vigilanza e coordinamento, ha la funzione di condividere le decisioni da adottare per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso dell'imperiorizzazione dei sistemi di controllo. Insomma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per l'Ecorsione, Ministero del Lavoro, Politiche Agricole e dell'Economia e Finanza. Il ruolo dell'Igrue è l'Igrue, l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziati con l'Unione Europea e l'Organismo di Coordinamento Nazionale delle Autorità di Audit. Il fatto è effetto all'analisi della designazione delle autorità di audit, valuta e invinere l'efficacia delle attività di audit e predispone una relazione annuale, il dettaglio non vero so a leggere, ve lo trovate nella slide, sono i vari compiti che spettano all'Igrue. Vediamo delle pillole sul PESRE e l'FSE a fronte del regolamento generale dei fondi, i regolamenti specifici regolamentano gli ambiti interventi del Fondo Sociale Europeo e del Fondo per il Resiluppo Regionale. Il Fondo per il Resiluppo Regionale contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la questione economica, sociale e territoriale, eliminando le principali disparità regionale dell'Unione. Finanza, i classi interventi infrastrutturali, l'abbiamo visto prima, investimenti produttivi che comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, la creazione di mantenimento dei posti di lavoro, investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base, infrastrutture sociali, attrezzature infrastrutturali di ridotte dimensioni, creazioni, creazione di reti, la cooperazione dello scambio delle esperienze. In ambito della cooperazione territoriale europea, la condivisione di strutture e risorse umane di tutti i tipi, infrastrutture a livello trasfrontaliero. Il FES in ragione degli 11 obiettivi tematici privilegia e deve essere concentrato su quattro degli 11 obiettivi tematici, che sono rafforzamento della ricerca, miglioramento all'accesso delle comunicazioni, promozione della contabilità delle piccole e medie imprese, sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni. Ecco, su questi interventi vi è l'invito a concentrare le risorse. Per le regioni più sviluppate in transizione e meno sviluppate, troverete la percentuale di impegno sui singoli obiettivi minimo che sono richiesti dalla Commissione. Ecco, questo è il concetto della concentrazione su obiettivi stabiliti come prioritari. Sviluppo urbano sostenibile, ve l'ho anticipato prima con l'agenda urbana, è finanziato dal FES, sono previste delle autorità urbane che rappresentano un poco i soggetti che gestiscono ai programmi di sviluppo urbano. L'autorità di gestione determina, di concerto con l'autorità urbana, la portata dei compiti che potranno essere svolti dalle autorità urbane stesse e l'autorità di gestione formalizza la decisione per iscritto. Le autorità urbane individuate dalla programmazione 2014-2020 sono le 14 città metropolitane destinatari di un po' uno specifico, un po' uno città metropolitane, le città medie e i poli urbani regionali che interverranno per l'attuazione dei programmi operativi regionali. Può essere attuato lo sviluppo urbano attraverso gli ITI, investimenti territoriali integrati. Una parte di risorse del Fondo Sociale Europeo sono gestite direttamente dalla Commissione per gli investimenti in ambito urbano, sono parte delle cosiddette azioni innovative. L'articolo 8 del Fondo Sociale Europeo regionale prevede la possibilità che la Commissione possa gestire direttamente una quota di risorse per l'attivazione di queste azioni innovative urbane, tra l'altro a breve scadrà il secondo banno, la seconda cosa di quest'anno. E' prevista anche l'istituzione di una rete di sviluppo urbano per promuovere lo sviluppo di capacità e la creazione dei reti di riscambio di esperienza per i partner in materia di... Il regolamento, andrò velocissimo, finanzia del Fondo Sociale Europeo non si discosta molto da quello che era nella passata programmazione, storicamente nelle programmazioni precedenti, è finalizzato a aumentare i livelli di occupazione, sostegna la mobilità geografica, istruzione, informazione, lotta alla povertà e all'inquisizione sociale, uoglianze di genere, non discriminazione, tutte azioni ricadono sotto il Fondo Sociale Europeo attuato. Analogamente al Fondo Europeo di sviluppo regionale, i quattro obiettivi principali sono gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11, che sono tipicamente gli obiettivi finanziati esclusivamente nel Fondo Sociale Europeo. Anche qui c'è un invito a concentrare gli interventi sugli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11, ragione che si tratti di regioni più o meno sviluppate. L'Italia è il Fondo Sociale Europeo, correntemente con quanto previsto dal Fondo, le misure adottate in Italia sono incentrate sull'incremento delle opportunità lavorative, aiuto a gruppi svantaggiati, potenzialmente dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e miglioramento delle capacità amministrative della pubblica amministrazione. Ultimo, siamo ancora in tempo, a contabilità e trasparenza. Per dar conto di come vengono spese le risorse nell'Unione e anche nazionali, abbiamo due strumenti, uno nazionale e l'altro comunitario. Il primo è il portale opencoesione.gov.it, è un'iniziativa di Open Government sulle politiche di coesione in Italia, promuove l'efficacia dell'intervento attraverso la pubblicazione dei dati sui progetti finanziati. Si rivolge a tutti i cittadini affinché abbiano a disposizione dati e informazioni per valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse. A livello europeo abbiamo invece l'analogo portale che fa il punto sulla spesa nei singoli paesi, quindi a livello dell'Unione. Attualmente sono presenti 530 programmi finanziati e se andate a vedere i rispettivi siti, vi rendete conto come siano utili e ben fatti, questo è il sito del portale opencoesione.it che costituisce il portale unico previsto dal regolamento generale che dà conto delle spese e delle realizzazioni con i fondi utilizzati attraverso i fondi surprise o pay, contiene dati sulla attenzione degli investimenti, è stato avviato nel corso della programmazione precedente ed è stato arricchito e implementato per i servizi informativi per l'attuale ciclo di programmazione. questo è un esempio di una scheda, ho perso una scheda del regione Lazio, vedete la tipologia di interventi che sono stati, purtroppo non abbiamo il collegamento, ma se lo navigate questo sito vi rendete conto di come sia abbastanza fruibile e chiaro nelle informazioni. analogamente il sito costituendata.eu consente di consultare i dati sul portale degli investimenti attraverso quattro opzioni, lo stato dei pagamenti, il tema, il paese e la tipologia di fondo. Ok, io avrei detto tutto, ho concentrato e zippato il più possibile gli interventi, però come capirete è un argomento talmente basso che in genere trattiamo in giornate informative e non in webinar di un'ora, per cui lo sforzo fatto nel cercare di essere il più possibile sintetico, domande, vedo tutte le domande. Perché la Gran Bretagna non spende l'agricoltura? Perché l'agricoltura in Gran Bretagna non è un'attività economica tra le principali, in Gran Bretagna le attività economiche inglesi che non è un'attività prevalente. Francia, Spagna, Italia puntano molto sull'agricoltura, l'Inghilterra no, non è l'economia principale, semplicemente questo. Marilena Marra, ma la programmazione del 2014-2020 è partita in ritardo, come si potrebbe eventualmente recuperare il tempo perso? Questa è una bella domanda, speriamo di non trovarci in difficoltà come nel precedente ciclo di programmazione, anche qui abbiamo regioni che viaggiano a due velocità, regioni del centro-nord, dispiace dirlo, ma è una costruzione che facciamo, sono già a secondo avviso magari per alcune tipologie di misure, altre devono ancora partire, quindi il Meruisi è ancora in transizione. Sì, non è in transizione, è una regione insieme all'Abruzzo e alla Sardegna appartendo alle regioni intermedie. Non è chiara le risorse? Ok, le ricoste efficaci del 6%, sì, allora praticamente l'Unione Europea quando stanzia le risorse per determinati programmi si riserva di non assegnare risorse del 6%, fatto 100 un programma ne assegna il 6% in meno, quel 6% lo versa allo Stato che ha portato a compimento quelle realizzazioni nel periodo di intermedio, nel 2019. Se io non ho realizzato quegli obiettivi, quel 6% lo perdo. Se voglio avere il 100% di quanto mi era stato previsto che mi erissi assegnato, devo portare a termine le attività che mi ero prefissato di realizzarle. Se non le porto a termine non mi viene concesso. Considerato quanto investiamo in ricerca e sviluppo, anche noi dovrebbero riborsare la domanda. questo purtroppo è un po' lontano dalle nostre decisioni, per cui i 6 belli in fuga purtroppo sono una realtà. Potrebbe essere un suggerimento da dare ai nostri governanti nel prossimo ciclo di programmazione. Nel sito d'occasione le informazioni non sono aggiornatissime, da questo dipende? Dipende sicuramente dal fatto che lo stanno continuamente aggiornando. È un sito che è stato avviato nella precedente programmazione e in questo lo stanno via via arricchendo di contenuti e di informazioni. Poi riprende informazioni che vengono fornite dalle regioni e dalle amministrazioni nazionali. Quindi in base alle informazioni che giungono il sito viene alimentato. Sicuramente sarà alimentato. Risorte a fini sportivi. Pensavo si potessero. Ok, allora lei colgo la palla al balzo perché noi proprio il 28 non è finalizzata a rispondere alla sua domanda, però una risposta parziale gliela posso dare. Noi il 28 marzo, presso la sede della rappresentante della Commissione Europea qui a Roma, stiamo organizzando l'evento su come finanziare la mobilità ciclistica. Si tratta di finanziamenti dedicati allo sviluppo dei riciclabili, però parallelamente noi abbiamo sviluppato e prodotto una guida che troverà sul nostro sito, se lei va sul sito europa.formes.it, trova una guida come finanziare lo sport, la riciclabilità, lo sviluppo sostenibile con i fondi europei. È una guida che viene aggiornata di anno in anno e contiene le possibilità di finanziamento attraverso i fondi diretti. Quest'anno è stata implementata con una sezione su fondi indiretti per le ciclabili, però con particolari di ciclabili, però lì troverà delle indicazioni che possono essere utili per finanziare attività sportive, non so quale tipo di attività sia interessato, però può sicuramente trovarla utile. Allora, considerato quanto è l'ultima domanda. Non so se avete altre domande, sono stato un po' lungo, però penso che comprenderete come tante cose non sono state dette, però bisognava fare delle scelte, quindi mi auguro che nelle prossime edizioni del nostro webinar potremo fare degli approfondimenti specifici su alcuni elementi che non sono stati presi in debito a considerazione, magari per alcuni di voi sembrati superficiali, però è stata una necessità imposta dai tempi dei webinar, per cui non so se Claudia vuol dire qualcosa, no. Ok, io intanto vi saluto, do la parola alla collega Claudia Salvi, che vi lancia questa possibilità di partecipazione all'evento che vi anticipavo poco anzi. Grazie a tutti. Pronto? Allora, soltanto un secondo prima di lasciarci. Per quanto riguarda l'evento del 28 marzo, dovreste vedere in questo momento visualizzato il programma. Per iscriversi all'evento dovete utilizzare le stesse procedure che avete utilizzato per i webinar, quindi dovete accedere sul sito eventipa.formets.it, cliccare sul 28 marzo e iscrivervi alla giornata. Faccio un attimo scorrere il programma, parleremo di finanziamenti nazionali ed europei per la mobilità ciclistica. Siamo in attesa di conferma della partecipazione da parte del Ministro Graziano del Rio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà presente il commissario del Forma SPA, più il capo del settore politico della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Poi ci saranno vari interventi, ci saremo di nuovo io e Luigi che parleremo di quali sono i finanziamenti diretti che possono essere utilizzati per la mobilità ciclistica e quali invece quelli indiretti. In più interverrà il MIT che ci parlerà delle ciclovie nazionali e delle strategie a sostegno della ciclabilità e parleremo anche di mobilità ciclistica e delle ciclovie nel piano strategico del turismo. Si parlerà poi di come il POM Metro può finanziare azioni nel settore della mobilità ciclistica e avremo poi due interventi, due casi concreti di esperienze regionali e quindi avremo la regione Lombardia e la regione Puglia. Vedo che mi fate ancora una domanda, dove è possibile trovare per l'evento del 24 sui trattati di Roma. Tra qualche ora lo mettiamo sul sito europa.formes.it e vi indicheremo il link attraverso il quale voi vi potete prenotare. È un evento in presenza ma è previsto anche lo streaming. Troverete sempre sul sito europa.formes.it le informazioni necessarie sia per iscrivervi che per seguirlo in streaming. Volete sapere dov'è la guida per i finanziamenti e le attività sportive. Allora un minuto se mi date tempo sempre sul sito .europa.formes.it in alto c'è una barra in blu dove nella sezione documenti trovate questa guida. Comunque ora vi do un attimo che vi do il link. Eccolo qui. Solo un secondo che ve lo metto in chat. Questo è il link per la guida per finanziare le attività sportive e il turismo sostenibile. Se non avete altre domande vi ringrazio e vi saluto. Vi faremo sapere e intanto vi daremo informati sulle nostre iniziative successive ma ce ne saranno molte quest'anno. Grazie a tutti e arrivederci.